Le patologie cardiovascolari sono una cosa seria e fare prevenzione aiuta ad evitare problemi. Torna così l'iniziativa Cardiologia Aperte, che fino a venerdì prossimo permette di telefonare al numero verde dedicato 800 05 22 33 dalle 14 alle 16 per parlare con i cardiologi ospedalieri, che risponderanno gratuitamente per quesiti su problemi o dubbi legati alle malattie del cuore. È un'iniziativa che AMCO, che è l'Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi Italiana, propone tutti gli anni, a cui aderiamo con entusiasmo, perché è un modo per aprire la disponibilità dei professionisti cardiologi alla popolazione. Quindi con questa disponibilità telefonica l'utenza può afferire con domande o con curiosità o con chiarimenti e ci permette di essere più vicini ai cittadini. Dopo una breve intervista, durante la quale la segreteria chiederà l'età e il sesso, la regione e la città da cui si effettua la chiamata, la telefonata sarà trasferita ai professionisti di cardiologia dell'ospedale Guglielmo del Saliceto e di quello della Valtidone. Quindi questo proprio è rivolto in un obiettivo comune fra gli ospedali di Piacenza e di Castel San Giovanni, di integrarsi sempre di più con la popolazione, con il territorio, e di portare avanti un'integrazione che riguarderà anche l'attività dei medici di base proprio per cercare di avvicinarci il più possibile alle persone e ai loro bisogni.